Come nei migliori teatri, a fine concerto, standing ovation e spettatori in piedi per lunghi minuti e applausi scroscianti. Il teatro è quello di una scuola geograficamente di periferia, ma che per i continui eventi di qualità è al centro di un'attività culturale a largo raggio che coinvolge l'intera cittadina di Palma di Montechiaro. E gli spettatori non appartengono certo a una nicchia di appassionati, ma sono gli alunni della scuola stessa che nonostante gusti musicali differenti relativi all'età giovane hanno incontrato la musica classica, apprezzando il magnifico concerto dei siciliani Quintet, composto da cinque docenti di strumento musicale in servizio in diverse scuole della provincia di Agrigento. Finora abbiamo visto il primo concerto che sono stati protagonisti la famiglia dei sassofoni, il secondo concerto è stata protagonista la famiglia degli atti, degli strumenti ad arco. Oggi abbiamo una formazione più variegata, infatti gli strumenti sono tutti derivanti da strumenti di categorie differenti, a corda, a fiato e abbiamo ancora novità alla voce che ancora avevamo avuto. Solitamente sono venuti qua a suonare tutti i amici, qua stavolta sono colleghi che ho conosciuto lavorando sul territorio di agligente. Il concerto dei siciliani Quintet è stato il terzo appuntamento della stagione concertistica 2016-2017, ha detto il dirigente scolastico Eugenio Dorsi, e che ha come obiettivo quello di avvicinare sempre di più i nostri ragazzi a tutte le arti, le pratiche, le varie educazioni, per far vivere esperienze formative che vanno oltre l'aula e oltre il libro di testo. Protagonisti del concerto la soprano Caterina Pistone, i musicisti Giuseppe Aquilotti al clarinetto, Santino Azzolino al violincello, Laura Larrocca al violino e Domenica Mastronardo al pianoforte, apprezzata tanto la scaletta proposta con i brani di Ennio Morricone, Nicola Piovani e altre celebre musiche che hanno coinvolto il pubblico. La stagione concertistica del Cantamila ha già registrato la partecipazione dei Sicheli a Etno Jazz Group e il quintetto Sport. Il prossimo appuntamento al Cangiamila di Palma, in cartellone, è fissato per il prossimo 24 marzo con il concerto al pianoforte di Maricla Cacciatore. Il prossimo appuntamento al Cangiamila di Palma, in cartellone, è fissato per il prossimo appuntamento al pianoforte di Maricla Cacciatore. il prossimo appuntamento al pianoforte di Maricla Cacciatore. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.